Seconda trasferta consecutiva per la capolista Favenzia, impegnata sul campo del Città di Chieti, ambiziosa neopromossa che occupa la quinta posizione in classifica con sette punti e che ha nel roster giocatori di grande esperienza. Manfredi che invece veleggiano al primo posto e ha punteggio pieno, grazie alle quattro vittorie ottenute in altrettante partite, l'ultima delle quali arrivata nella trasferta di Campobasso contro il Cus Molise. Sabato è stata una partita impegnativa, loro erano molto bravi, avevano soprattutto un giocatore molto forte. La settimana prima abbiamo lavorato molto in allenamento su come marcarlo, su come posizionarci in difesa contro questa squadra. È andata bene, siamo andati in vantaggio per 2-0, poi però abbiamo subito un gol col portiere di movimento subito dopo il nostro secondo gol, però poi con il portiere di movimento loro siamo riusciti a difendere fino alla fine della partita e abbiamo portato a casa i tre punti. Adesso per sabato prossimo avremo una trasferta lunga, andremo a Chieti, però ci stiamo preparando bene e penso che saremo pronti.